Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta a 8 e mezzo, Rita Lofano, direttrice dell'agenzia Agi, buonasera Massimo Cacciari, filosofo, buonasera Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24, buonasera Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Allora, dopo un anno l'Italia è più credibile, stabile e ascoltata, almeno secondo Giorgia Meloni. Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Allora, Professor Cacciari, per celebrare un anno dalla vittoria alle politiche, Giorgia Meloni questa sera dice che oggi l'Italia è più credibile, più stabile e più ascoltata. Sembra anche a lei? Beh, ha del paradossale questa affermazione, Giorgia Meloni sarebbe più ascoltata e più credibile in sede internazionale di Draghi, mi sembra abbastanza osè l'affermarlo, quindi non lo so. Quello che è vero, se mi permette un minuto per fare un discorso che vada un po' al di là della cronaca, è che Giorgia Meloni è impegnata in una, con altri leader della destra europea, è impegnata in un'operazione molto seria e complicata, cioè quella di conquistare una credibilità in seno alle grandi potenze dell'Occidente, politiche ed economiche e finanziarie, per poter puntare credibilmente a vincere le elezioni europee e a porsi come nuova governance europea, con una rivoluzione vera dal punto di vista culturale e politico rispetto a quella che l'Europa è stata fino ad oggi, perché fino ad oggi l'Unione Europea si è retta su un grande compromesso storico tra componenti cristiano-cattoliche, popolari, liberali e socialdemocratiche. E come sta riuscendo in questa operazione, Professor Cacciari? Scusa, sta procedendo con grandi difficoltà, con grandi contraddizioni, perché deve portarsi dietro anche ungheresi, polacchi, perché ormai a questo punto dovrà portarsi di dietro, perché fanno parte ormai organica di questa Europa totalmente schiacciata sull'Atlantico, sugli Stati Uniti e sulla Nato, quindi dovrà portarsi dietro tutti costoro, non sarà semplice, ma ci sta provando con intelligenza e qualche punto a suo favore in questa prospettiva l'ha avuto. Dopodiché che l'Italia stia meglio, noi siamo arrivati a 2870 miliardi di debito, stiamo procedendo con un aumento del nostro debito pubblico di 10 miliardi all'anno. Come faranno a fare una finanziaria decente? Lo sa soltanto lo spirito santo. Se questa è stabilità, naturalmente non è tutta colpa del governo, si figuri, ma l'Italia è in una crisi, immobilismo istituzionale e crisi economico-finanziaria drastica. Quindi che cosa canta per farsi coraggio la Meloni? Andrea Scanzi, sei d'accordo con l'analisi del professor Cacciari? Giorgio Meloni stasera dice anche che in questo anno sono state aiutate famiglie e imprese e rivendica tutti i provvedimenti che sono stati attivati sul fronte della sicurezza e della legalità. Quindi traccia ovviamente un quadro molto positivo, è stato stampato e distribuito anche un opuscolo dal titolo l'Italia vincente. C'è troppo ottimismo? C'è una celebrazione caricaturale, comprensibile ma imbarazzante. È difficile che un oste abbia il coraggio di dire che nel suo ristorante si mangia male e si beve peggio. La Meloni è proprietaria del ristorante, proprietaria del governo e ci dice che è tutto bello. Noi che non siamo proprietari possiamo essere un po' più oggettivi. Io l'ho letto quel pamphlet, quella brochure meravigliosa chiamata l'Italia vincente. Ed è un affastellamento di dati incongrui, omissioni, bugie, su tutto. Sul PIL, sull'occupazione, sulla riforma fiscale, sulla riforma della giustizia, sulla migrazione, sulle riforme del lavoro, su tutto. Io vorrei domandare concretamente di positivo questo governo cosa ha fatto. Le poche cose che non sono particolarmente attaccate sono cose fatte col copia e incolla rispetto al governo Draghi nei confronti del quale la Meloni era l'opposizione. La politica estera è uguale a quella di Draghi, piaccia o meno è identica, iperatlantista alla faccia di quello che faceva la destra sociale 10, 20, 30 anni fa o prometteva di fare. Riforme economiche sul piano del fisco, dove sono le differenze? La prossima finanziaria cosa sarà? Non c'è un euro, non c'è una lira. Per trovare un po' di soldi hanno fatto 14 condoni fiscali o edilizi per raccattare qualche soldo. Sarà una riforma lacrime e niente, neanche lacrime e sangue. Su quel pamphlet addirittura su quella brochure si fa l'esultanza e si celebra. La Meloni e Fratelli d'Italia hanno avuto il coraggio di fare questo. Celebrano l'arresto di Messina di Naro come fosse stato un merito del governo. Vorrei sapere che meriti concreti ha avuto il governo. Celebrano addirittura una RAI liberata dalla lottizzazione dove finalmente vige la meritocrazia, che è una delle battute del secolo. La riforma della giustizia è pari pari a quella di Berlusconi, potrei andare avanti a lungo. Mi sembra che sia una serie di sconfitte, di falsità, di bugie nei confronti di loro stessi, perché hanno fatto delle cose che avevano promesso di non fare in campagna elettorale e viceversa. E a tutto questo aggiungo, e mi fermo, una delle classi dirigenti peggiori degli ultimi anni. Voi pensate in questo anno quante volte ci siamo trovati in televisione e abbiamo dovuto commentare i lapsus, gli errori, le uscite fuori posto dei Lollo Brigida, delle Sant'Anche, dei Valditara, dei Piantedosi, potrei andare avanti a lungo. Quindi può celebrare quello che vuole la Meloni. La sua grande fortuna è che oggi sta vincendo per mancanza di avversari credibili, perché gli elettori un anno dopo dicono che la Meloni va malino, ma tutto sommato dall'altra parte non c'è nulla e quindi teniamoci la Meloni, ma da qui a festeggiare. Allora, Rita Lofano, tu condividi questo giudizio così negativo, così critico di Andrea Ascanzi dice che questo opuscolo per festeggiare un anno della vittoria elettorale di Giorgio Meloni è pieno di omissioni, bugie, falsità. Un punto sul quale Meloni può gridare vittoria e invece un punto dove ha fallito finora, dopo 12 mesi. Ma innanzitutto direi, non capisco perché i critici di Meloni considerano un fattore negativo il fatto che si muova nel sulco di Draghi. Lo stesso professor Cacciari ha detto ma cos'è meglio di Draghi? Poi è stato sottolineato che lei dal punto di vista della politica estera, dal punto di vista della prudenza fiscale sui conti si muove nel sulco di Draghi. Questa è una cosa che dovrebbe oggettivamente fare felici i suoi critici o anche gli avversari politici perché si preannunciavano sfaceli, disastri finanziari, isolamento e invece quello che le viene riconosciuto, il Guardian, non esattamente un giornale di orientamento di centrodestra, l'ha definita la leader più potente d'Europa e quello che le viene riconosciuto è proprio la sua capacità di muoversi con abilità in politica estera. Abbiamo visto il plauso di Macron sulle politiche per l'Africa, sappiamo tutti che la Francia pur con i distinguo c'è Darmanen che fa il falco. Abbiamo visto un po' con gli alleati europei un giorno alleati un giorno di nuovo nemici, insomma anche con la Germania. Sì però lo vedrai dal lato della Meloni, appunto guardiamo la Germania, è la Germania che vuole respingere i dublinanti, è la Francia che ha messo i droni alla frontiera, guardiamo Meloni come si è mossa, appunto si è rivelata atlantista, europeista, è stata ricevuta alla Casa Bianca, Macron le ha detto che intende appoggiare l'Italia e fa bene per l'Africa che peraltro è una strategia, certo di lungo periodo non risolve i problemi da un giorno all'altro. Io vedrei il bicchiere mezzo pieno e aggiungerei anche un'altra cosa, ci sono anche dati che lo confermano, 12 mesi di distanza il Fuzzimib che è il principale indice di borsa che raccoglie le 40 società con maggiore capitalizzazione in Italia ha guadagnato il 35%, questo è un indicatore di fiducia, lo spread è stabilmente sotto i 200 punti, è un altro indicatore di fiducia, quindi onestamente io non mi allineo ai disfattisti e il bicchiere lo vedrei mezzo pieno. Sebastiano Barisoni, tu come lo vedi il bicchiere di Giorgia Meloni a un anno dalla vittoria elettorale, soprattutto anche sul fronte economico? Diceva adesso Rita Lofano che il Fuzzimib, lo spread, insomma sono tutti indicatori molto positivi e la stessa Meloni ricorda il record di occupati, ribadisce che l'Italia cresce più degli altri paesi europei? Allora, starei molto cauto a non usare il Fuzzimib come indicatore sul gradimento o successo in successo di un governo perché si muove su tutt'altro genere di fattori, in questo momento noi vediamo che c'è una crescita complessiva delle borse a livello europeo, lo spread è sotto controllo, attenzione, è sotto controllo perché sta salendo anche quello tedesco, quindi in realtà il rendimento del nostro BTP oggi è arrivato ai massimi da marzo, però vorrei dire una cosa molto chiara, al di là dei tecnicismi, dei numeri, non è vero che adesso con l'ultimo, con il secondo trimestre cresciamo più degli altri paesi, era vero il primo trimestre, la previsione per quest'anno è di una crescita, quest'anno in linea con il resto d'Europa, l'anno prossimo rispetto ai nostri concorrenti francesi, tedeschi e spagnoli, siamo l'unico paese che mantiene la crescita uguale, c'è un po' di meno, 08 invece che 0,9, gli altri crescono un po' di più, però la Germania quest'anno è messa peggio di noi, al di là delle gare sullo 0,8 o 0,9, però attenzione, il secondo trimestre abbiamo fatto meno 0,4, noi c'è l'Italia, sta iniziando a imbarcare frenata, io direi una cosa molto semplice, io vedo due meloni nei temi che avete toccato, una che poi non possa piacere o no è un altro discorso, una molto chiara e con una postura molto netta nella politica estera, sia di carattere atlantista, che io personalmente condivido, che anche in Europa il timore di trovarsi con un elefante nella casa europea è stato completamente smussato e ridotto, quindi la meloni è stata molto chiara nella posizione che ha tenuto a livello di politica estera, altrettanto non si può dire sulla politica economica e mi spiego, la politica economica non è solo la manovra di bilancio che giustamente con gli effetti dei bonus edilizi, con quello che ci portiamo dietro correntemente all'economia sarà una manovra molto molto debole come risorse, questo non è colpa necessariamente del governo, no la politica economica è la visione che tu hai del tuo paese nei prossimi anni, visto che governerai lei immagina per 4-5 anni, uno l'ha già fatto, cioè che paese immagini che sia, allora è come nella politica estera, stai con la Nato, con l'atlantismo o stai con la Cina e col puttinismo, allora noi non abbiamo visto e concludo una chiara indicazione, uno poteva immaginarsi dei temi di destra sociale come una volta, no perché non è con dei cretini o strizzando l'occhio una volta i tassisti, una volta i balneari, adesso i commercianti, magari anche i provvedimenti, penso quello del fiscale che è uscito oggi dal CDM, che possono anche essere provvedimenti utili per le casse dello Stato, però non è che con questi provvedimenti tu ti è un'indicazione, tu devi far capire, hai a cuore il salario e quindi chi è più colpito dall'inflazione perché non può aumentare gli stimi, allora facci capire perché sul salario minimo c'è stato un edge di scudi, non l'ho capito, ti interessa ridurre il cuno fiscale, tutte le risorse vanno lì, pensi alle imprese e allora rifinanziate 4.0 che ha costo nullo per lo Stato, ha permesso di un governamento, che paese ti immagini? Non puoi fare dei cretini? Tanto andiamo avanti a forza di decreti, ma questo non è solo una caratteristica del governo Meloni, lo abbiamo visto con tutti i passati governi. Professor Cacciari, diciamo che il fianco più scoperto in questo momento per Giorgio Meloni resta quello dell'immigrazione e della gestione del fenomeno, dicevamo prima, lo accennava anche Rita Lofano, oggi sale ancora la tensione con la Germania perché la stessa Premier ha scritto una lettera al cancelliere tedesco Scholz per alcuni finanziamenti ad alcune ONG per salvare e integrare meglio i migranti del Mediterraneo. Allora, è questo finora il vero fallimento di Giorgio Meloni? Io ripeto, Giorgio Meloni non è giudicabile in quanto Giorgio Meloni, bisogna vedere una storia, un minimo di storia italiana, di crisi strutturale che da anni, Giorgio Meloni ha ereditato certamente una situazione difficilissima sul piano economico, ma da qui a cantare vittoria è semplicemente ridicolo, patetico, questo è un paese, ripeto, che ha 2860 miliardi di debito e cresce 10 miliardi all'anno, questo è un paese dove per la prima volta i risparmi dei privati sono diminuiti, vuol dire che la gente si comincia a mangiare le risorse con un impoverimento di cetomegio spaventoso, questi sono dati, tutti i dati di base non sono migliorati di una virgola, anzi semmai sono peggiorati, questa è la realtà al di là delle chiacchiere. Dopo gli dico a noi cantare vittoria, di le cose finalmente come stanno, di le cose come stanno, ma quando avverrà un momento in cui questi politici ci racconteranno la realtà e non le loro promesse, i loro sogni, le loro desiderata, detto questo si immagini per l'immigrazione, si immagini, si immagini cambiati i ruoli, si immagini con 2.000, 3.000 sbarchi al giorno che cosa avrebbero fatto all'opposizione questi Meloni, Salvini and Company, se lo immagini, se lo immagini la situazione, il casino che starebbero facendo, è colpa loro che ci sono 2.000, 3.000, è colpa loro se non c'è una politica europea degna di questo nome? Certamente no, ma cosa raccontano? I successi sull'immigrazione, ma è veramente la mancanza totale proprio di principi di realtà, è mancanza totale, se non fosse apposta che mentono, che falsificano, che mistificano, sarebbero delle persone a cui chiamare lo psichiatra, perché mancano completamente di senso di realtà, cosa vuoi raccontare i successi sull'immigrazione se l'Europa sta nella situazione? Cosa vai a raccontare di una politica per l'Africa? Ma vogliamo far ridere, ma vogliamo far ridere, ma quale politica per l'Africa vuole che ci sia da un paese singolo europeo? Soltanto una grande Europa potrebbe fare una politica per l'Africa, la politica per l'Africa la stanno facendo i cinesi, come tutti sanno, dati, numeri, cifre, investimenti, non chiacchiere, questa è la situazione, dai! Ritalofano, questo è un po' il problema che ha anche Giorgia Meloni, che vanta sempre un contatto molto diretto con il popolo, come viene chiamato, non ha il coraggio di dire la verità? Mancano tutti di senso della realtà, come dice il Professor Cacciari? Onestamente io non capisco, è chiaro che un governo poi tira l'acqua al suo mulino, ma è anche vero che io non vedo questo, la politica per l'Africa, anche fatta da un singolo paese, e questo anche con il governo Draghi, nel piano della crisi energetica, l'Italia, scusatemi, però l'Italia non è rimasta senza energia, io ricordo, potrei sembrare di parte al momento, però l'amministratore delegato Deleni accompagnare, e c'è una storia dell'Italia in Nord Africa, il ministro degli Esteri, il governo anche Draghi, questo sarebbe la politica per l'Africa, accapararci del petrolio, sarebbe la politica per l'Africa, ma quando mai è mancata la politica per l'approvvigionamento petrolifero, ma quando mai è mancata, ma quando mai non c'è stata, che se l'è inventata la Meloni, se l'è inventata la Meloni, non se l'è inventata, ma è mala fede, è palese, è mala fede, ma c'è sempre stata una politica energetica, ma c'è sempre stata una politica di approvvigionamento del petrolio, ma che roba è l'invenzione della Meloni, per cui compriamo petrolio e metano in Tunisia e in Algeria, io intendevo dire un'altra cosa, forse non mi sono spiegata, sto dicendo che è molto importante fare accordi con i paesi del Nord Africa, con i paesi dell'Africa subsahariana. Guardiamo cosa sta succedendo alla Francia, la Francia è stata estromessa dal Niger, dal Mali, sta perdendo le sue zone, proprio perché, come giustamente dicevate, c'è anche la Russia, ci sono anche altri attori, quindi vogliamo lasciare queste zone così cruciali per i migranti, per le risorse. Secondo me è vero che si deve muovere l'Europa, però è anche importante che l'Italia faccia la sua parte, tant'è che si è parlato, si è dato un nome evocativo a questa politica, c'è il piano Mattei, l'Italia potrebbe cominciare da sola, poi probabilmente servono molti più soldi. Cosa è stato fatto con Erdogan, scusate, gli sono stati dati miliardi per gestire... E c'era tutta l'Europa, però. Esatto, infatti quello che c'è, se c'è un demarito, forse è proprio la mancanza di un'azione coordinata rispetto a questo fenomeno che è strutturale, che l'Italia non può gestire da sola e che invece si spezzetta anche per interessi nazionalistici o elettorali. Ricordiamoci sempre che all'orizzonte ci sono le elezioni europee. La Germania, aggiungo solo una piccola cosa, la Germania tra poco ci saranno le elezioni nell'Asia, una regione molto importante dove la FD, Alternative for Deutsche, il partito di estrema destra, viene dato nei sondaggi primo e guarda caso c'è un atteggiamento molto più... Eh sì, guarda caso c'è in tutti i paesi europei che andranno alle elezioni. No, voglio dire, no, ognuno è sovranista a casa sua, lo diciamo spesso. Cacciari, poi Scanzi e Barisoni. Cosa vuole che dica? Faccio parlare agli altri, cosa vuole che dica? Scanzi. Allora, no, dunque, intanto la Meloni cosa ha detto in campagna elettorale, cosa sta facendo? Il blocco navale l'avete visto? No. L'aumento degli impati l'avete visto? No. Gli accordi con i paesi del Nord Africa? No. Compreso la Tunisia. Grandi esultanza non hanno ottenuto niente oggi. Ma al netto dei fallimenti oggettivi, che chiaramente non riguarda soltanto la Meloni, l'ha spiegato benissimo Cacciari, io vi faccio un esempio concreto che secondo me racconta la pochezza qualitativa di questo governo anche quando affronta soprattutto temi così complessi. Tre giorni fa nella gazzetta ufficiale è uscito un aspetto legato al famoso decreto Cutro, che secondo me è disastroso, che è quello che riguarda la cosiddetta cauzione che i migranti dovrebbero pagare all'Italia per evitare il regime di detenzione amministrativa. Sono 5.000 euro. Chi li paga questi 5.000 euro? I migranti, attenzione, i migranti che vengono dai paesi cosiddetti sicuri, che sono 16 paesi al di fuori dell'Unione Europea, alcuni dei quali non sono sicuri per niente, come la Tunisia e come l'Algeria. Ma attenzione, qui ci sono due elementi di criticità enormi. Uno, umanitario. Vi sembra normale che un paese occidentale democratico chieda la cauzione a migranti che spesso non hanno una lira? 5.000 euro, altrimenti vai il regime di detenzione amministrativa. È allucinante. Ieri Salvini, a fronte delle critiche che gli stava esprimendo un giornalista di Rete4, Paolo Del Debbio, che lo stava intervistando, ha detto, testuale, e vabbè, arrivano in Italia, c'hanno i telefonini, c'hanno le scarpe, ce le avranno 5.000 euro, che è allucinante. Quindi che vuol dire, tutti quelli che indossano scarpe c'hanno un telefonino, c'hanno 5.000 euro in tasca, te li do. Ma poi c'è anche un elemento non solo disumano, su cui ovviamente sta attecchendo l'opposizione, ma anche tecnico. Cioè questi 5.000 euro, come li dovrebbe pagare il migrante? Allora le deve pagare arrivando a Lampedusa e deve, intanto deve andare in un centro che al momento ce n'è soltanto uno, perché è un centro di detenzione velocizzata, lo chiamo così. Ce n'è solo uno in Italia, 84 posti a Pozzallo in Sicilia. Quindi tutti questi grandi rimpatri, 84 posti a oggi. Dopodiché il migrante deve avere 5.000 euro, lo cito testualmente, in fideiussione bancaria, perché è noto che i migranti vengono dalla Tunisia a Marocco, c'hanno in tasca 5.000 euro in fideiussione bancaria, chi è che non ce li ha? Arrivano subito a Lampedusa, devono pagare questa cosa appena arrivano e devono anche avere il documento di riconoscimento, il documento di identità, che spesso i migranti non hanno, perché facciamo fatica a riconoscerli. Ora, un governo che concepisce questo delirio sia da un punto di vista disumano, sia da un punto di vista legislativo, come fa a far fronte a una cosa così complessa e complicata come il fenomeno dei migranti? Questi sono dati oggettivi. Poi si può discutere su tutto, ma io ho raccontato cose che sono purtroppo inattaccabili. Allora, un attimo, ancora Rita, Rita lo fanno e poi Sebastiano Varisoni? No, volevo solamente dire che non lo ha concepito questo governo, è una direttiva europea che l'Italia ha recepito. Poi sull'efficacia di questo provvedimento, anche io personalmente nuto dei dubbi, però sottolineo che si tratta di una direttiva europea. Ecco, Sebastiano Varisoni, non è forse esattamente così questa direttiva, ma sull'immigrazione non sta andando tanto bene Giorgia Meloni e non solo per le sue responsabilità, ma anche sul fronte, prima ti faccio due domande, una anche di economia, perché oggi c'è stato il Consiglio dei Ministri che ha rinnovato gli sconti energie e varato anche un mini condono. Diciamo questo perdonismo fiscale, questa volta si tratta degli scontrini fiscali e dice il governo che così vengono salvati 50.000 esercizi commerciali. Che conseguenze ha? Quindi immigrazione e perdonismo fiscale? Allora, guarda, cerco di tenere assieme due cose molto diverse ovviamente. Io penso, mi sbaglierò, l'immigrazione sicuramente è un'emergenza in questo momento, però poi sappiamo che i flussi possono cambiare, non a merito nostro, ma anche condizioni meteo. Io temo, per usare la vecchia frase di Clinton, it's the economy stupid, che questo governo, come altri governi, cadrà o resterà in piedi o andrà in crisi o resterà in piedi sulla variabile economica, poi magari mi sbaglio. Per due motivi, uno perché gli effetti dell'aumento dei tassi di interesse storicamente si esercitano, si esplicano dopo almeno nove mesi, un anno. Quindi la sofferenza dalle famiglie, con i mutui, con il caro vita, inizia ad averla adesso e abbiamo visto cosa è successo ad agosto sulle pronotazioni alberghiere degli italiani, tant'è che gli stessi albergatori sono rimasti a bocca asciutta in molti casi. Ma poi, perché se tu non dai un messaggio, prima diceva che c'era un messaggio chiaro, lo puoi anche dare. Guardate, signori, c'è pochissimo, non per colpa nostra, i tassi sono in aumento, l'eredità dei bonus disegnati scritti peggio, non tanto il principio, ma scritti male. E questa è la situazione. Però poi devi uscire, in questa logica di chiarezza, da ogni messaggio ideologico. Allora, non è solo strizzare, va bene, i commercianti è poca roba, casomai entrerà qualcosa in più allo Stato. Però, ripeto, cosa vogliamo fare sui balneari, ce lo chiede l'Europa. Sui tassisti, un giorno c'è un'apertura, un giorno c'è una chiusura. Ma soprattutto, su due voci importantissime, il patto di stabilità, come lo vuoi riformare? E questo benedetto MES, chiamatelo punta MES, chiamatelo come volete. Ma noi non possiamo tenere l'Italia bloccata in Europa, o meglio, l'Europa bloccata sul MES, perché in campagna elettorale si è detto che quello non lo firmeremo mai. Abbiamo provato a spiegare in tutti i modi che tecnicamente il nuovo MES, se non voglio entrare nel tecnico, con il veto dell'Italia non lo potrebbe prendere nessun paese, neanche quello che ne fa richiesta, perché l'Italia ha un diritto di voto più alto dei voti che servono per far passare l'eventuale accordo dei soldi ai singoli paesi. Eppure c'è un'opposizione ideologica. Allora io dico, l'operazione di realismo la si vuole fare solo in politica estera, solo sui migranti, ammettendo che i flussi non sono quelli, o vogliamo fare un'operazione di realismo anche di politica economica e dire, signori, con lo spread che abbiamo, col debito che abbiamo, un conto della campagna elettorale, un conto di responsabilità e cerchiamo di ottenere un po' di margine per il benessere dell'Italia e puntiamo sui redditi da lavoro dipendente, perché lì è impossibile aumentare i prezzi. Non so più come dirlo, però. Eh no, no, perché tu nella tua trasmissione quotidiana su Radio 24 lo spieghi bene tutte le sere. Ma Massimo Cacciari, come ricordava Rita, lo fanno prima, sono tutti i paesi europei in modalità campagna elettorale, no, per il giugno prossimo. Diceva Barisoni, è il messaggio ideologico. Allora, sicuramente un messaggio ideologico forte che è stato quello della campagna elettorale ed è rimasto lo stesso per Giorgia Meloni anche adesso che ha Palazzo Chigi, è Dio, Patria e Famiglia. Come sta andando questa battaglia identitaria? Beh, saranno dei temi che in campagna elettorale cercheranno di far diventare centrali. Al solito sono temi che ora coprono i problemi, soprattutto di carattere economico-finanziario, che prima sono stati ricordati. Sono perfettamente d'accordo che il governo ce la farà o non ce la farà poi alla fine su questi temi. Ma in campagna elettorale temi identitari come quelli indicati, citati ora, torneranno a essere centrali. Tutti i temi ideologici saranno agitati per coprire il vuoto di progetti e di programmi concreti. Il vuoto fatto di decretini, di bonus, di interventi ad hoc, ad personam e falsità varie come quelle delle politiche africane o altre palle del genere. Quindi è evidente, dovremmo aspettarci anche Dio, Patria e Famiglia purtroppo. Andrea Scanzi? Però, ripeto, 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 il problema è da vedere sull'onda lunga, non è questione ideologica sovrastrutturale. Si agiteranno questi temi perché sono temi che tengono insieme anche questi temi la destra europea e la destra europea si sta riciclando su posizioni super atlantiste per avere tutta la credibilità internazionale e americana di questo mondo e poi faranno sull'immigrazione, sulle altre cose, poco, continueranno a fare quello che faceva Draghi, come è stato prima detto, cercheranno di farlo in condizioni sempre più difficili e poi i temi identitari serviranno a coagulare le loro forze perché quello che puntano e ci puntano, lì sì credibilmente ci puntano, è a vincere le prossime elezioni europee e a far fuori la grande coalizione che ha governato l'Unione Europea fino ad oggi. Questa è la questione storica che abbiamo di fronte. Questa è la questione storica, quindi la coalizione di socialdemocratici e popolari. Scanzi, tu volevi dire una cosa? No, no, sono d'accordo. La difesa identitaria è una copertina di Linus, uno specchietto per le allodore, nel momento esatto in cui Giorgia Meloni, che a differenza di molti esponenti di questo governo è scaltra, furba e intelligente, si rende conto che sta fallendo su molti piani, cosa fa? Rilancia qualcosa su cui è sostanzialmente inattaccabile. Dio, patria e famiglia, che vuol dire tutto e niente, quindi difende delle bandierine che non spostano niente nella vita reale di tutti noi, ma che comunque sono qualcosa di identificativo. E allora, Dio vuol dire la guerra in difesa di Dio, cito testualmente la Meloni, poi vorrei sapere concretamente come si espleta e si esplica la guerra in difesa di Dio. Patria, difendiamo i confini, quindi attenzione ai migranti e poi la famiglia, difendiamo la famiglia tradizionale, anche se come ha ricordato qualche giorno fa per esempio Corrado Augias, dentro quel governo di famiglie tradizionali ce ne sono pochissime, compreso la Meloni, ma questo governo fa quello che vuole giustamente dentro la propria cova, poi però rompe le scatole a coloro che nella loro vita cercano di fare la loro vita privata. Non si può fare e quindi queste cose, sai, in campagna elettorale funzionano, non spostano niente della nostra vita reale, però funzionano in ottica elettorale. Almeno non per il momento. Anche perché non c'è niente. Esattamente. Senta, Professor Cacciari, le volevo chiedere, siccome lei è stato molto amico del Presidente Merito Giorgio Napolitano che è mancato venerdì scorso e domattina si terranno alla Camera i funerali laici. È stato ricordato nel modo giusto in questi giorni Giorgio Napolitano? Su Napolitano bisognerebbe fare un discorso storico, ha passato varie fasi della vita, impegni diversi e tutti di grandissima responsabilità. Io al funerale farei semplicemente, di fronte a quelli che saranno lì presenti a sentire, ripeterei il discorso che fece al momento della rielezione al Parlamento. Amici che ci ascoltate, andate a risentirlo, lo trovate facilmente, andate a risentire quel discorso che fece ai deputati, alla Camera, senatori, parlamentari, quel discorso, denunciando con parole asperrime l'immobilismo istituzionale, l'assenza di capacità di fare le riforme, perché prima abbiamo parlato, Barisoni ha parlato di tutte le cose, condivido quello che ha detto, le cose economiche eccetera. Ci si dimentica che per esempio il PNRR famoso era nell'idea europea vincolato ad un piano di riforme, non era soltanto un credito economico, era vincolato ad un piano di riforme, ci si chiedeva di fare alcune riforme, le stesse che l'Italia aspetta almeno da 30 anni, da Tangentopoli, più o meno dalla caduta del muro. Napolitano venne rieletto, perché non si mettevano assolutamente d'accordo, come poi venne rieletto Mattarella, con lo stesso identico meccanismo, non è cambiato nulla. Quindi domani al funerale di Napolitano si prende il discorso che lui fece in quell'occasione di fronte alle stesse persone che saranno lì, come erano alla Camera dei Deputati dieci anni fa, e gli si fa quel discorso, lo fa Napolitano quel discorso domani al suo funerale. E sono passati dieci anni e di riforme ne abbiamo viste ben poche purtroppo. E adesso con il punto di Paolo Pagliaro, andiamo in Ucraina, la guerra in Ucraina, abbiamo detto che Giorgio Meloni è filo atlantista, diciamo anche sul sostegno all'Ucraina non ha mai vacillato, e intanto la guerra però continua ad andare avanti, guardate. A 19 mesi dall'aggressione russa all'Ucraina, la guerra è diventata ormai un arredo secondario dei palinsesti informativi. Col tempo, allo sbalordimento, allo sdegno e al dolore, è subentrata la sue fazione. Firmata dal professor Massimo Livi Bacci, un'inchiesta di Neodemos sugli elevatissimi costi umani del conflitto, ci riporta alla realtà. Sul numero dei suoi morti il Cremlino è silente, ma i numeri parlano. Dalle analisi dei necrologi, dai dati di mortalità raccolti dal Servizio Statistico Federale e dal registro delle successioni, risulta che i russi caduti combattendo in Ucraina fino al 27 maggio scorso potrebbero essere stati 55 mila. Aggiungendo il numero degli uomini feriti in modo grave, il numero totale delle perdite della Russia sale ad almeno 125 mila. Anche sulle perdite ucraine non ci sono ovviamente notizie ufficiali. Le 70 mila vittime di cui hanno parlato recentemente funzionari americani interpellati da New York Times sono cifre che potrebbero rientrare nella logica della disinformazione in tempi di guerra, anche se sembrano realistiche. I costi umani della guerra sono invisibili, esattamente come molte delle armi che vengono utilizzate. In un libro con documenti inediti e fonti esclusive, Operazione Satellite in uscita per le edizioni Paesi, il giornalista Frediano Finucci spiega che se l'esercito di Mosca non ha ottenuto la vittoria che si attendeva, ciò è di peso oltre che dalla determinazione degli ucraini dal fatto che gli Stati Uniti hanno messo a disposizione di Kiev i loro satelliti militari e civili, a cominciare da quelli del miliardario Elon Musk, che si sono dimostrati decisivi sul campo. Hanno consentito di sabotare le comunicazioni nemiche e di orientare le artiglierie, salvando molti fanti e sterminandone altrettanti. Siamo in chiusura, grazie Rita Lofano, grazie professor Cacciari, grazie Sebastiano Barisoni, grazie Andrea Scanzi, grazie spettatrici e spettatori, adesso restate con noi perché c'è il film Il profumo del mosto selvatico con Anthony Quinn e Giancarlo Giannini. E noi come sempre ci vediamo domani, 8 e mezzo. Arrivederci.